Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale si è pronunciato sul ricorso cautelare in appello presentato dalle associazioni ioniche ed alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Giarre, rigettando l'appello attesa all'imminenza dell'udienza fissata dal TAR per la discussione del ricorso, ma comunque ritenuta ad un sommario esame proprio della presente fase e la propria giurisdizione. Il CGA dunque, ribaltando la pronuncia del TAR di Catania in punto di giurisdizione, ha ritenuto che la controversia debba essere decisa dal giudice amministrativo, mentre nulla ha dichiarato nel merito della vicenda. L'udienza è fissata per il 24 marzo prossimo. Il comunicato, senza trionfalismi, rappresenta un punto a nostro favore, commenta la rete delle associazioni. Se non avessimo proposto appello al CGA ancora prima che il TAR Catania autonomamente fissasse l'udienza di merito, il 24 marzo si sarebbe tenuto un'udienza quasi certamente attestante all'incompetenza del TAR. Oggi non potrà essere così, si dovrà entrare nel merito. Tutti insieme ci prepareremo per argomentare, tenuto conto, delle ulteriori evoluzioni. Non è possibile che dopo quasi un anno l'unico provvedimento adottato sulla base del decreto assessoriale abbia riguardato solamente l'ospedale di Giarre. Non è possibile che oggi si parli di chiusura, di punti nascita con meno di 500 parti e a Giarre si applicò rigidamente sin dal gennaio 2009. Non è possibile constatare tante eccezioni e vedere calpestato il nostro diritto sostenuto dai criteri di legge. Rifunzionalizzare non vuol dire chiudere. Forza e coraggio, tutti insieme dobbiamo tentare ogni strada possibile, dice la rete.